eccoci qua ben trovati in cucina e benvenuti in agosto buona estate in cucina insieme a me fuori morucci ed angelo madonna angelo che caldo facciamci un gelato andiamo facci vedere come facciamo un gelato espresso diciamo espresso che poi nel congelatore ci deve andare ma diciamo facciamo un gelato senza aver bisogno della gelatina dai facci vedere quindi spiegaci tutto allora l'ingredente principale è il latte condensato che è una ricetta che abbiamo già fatto precedentemente presentato andate a scaricarvela www.comunicareproduzioni.it andiamo 300 grammi bene abbiamo 500 grammi di panna già montata bene e delle gocce di cioccolata cubi 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 per me sono 500 grammi 500 grammi di panna e 500 grammi di gocce di cioccolato non è più stracciarello no a me appunto ok quindi è molto semplice andiamo a mescolare il latte condensato con la panna bene quindi veramente di estrema facilità si assolutamente per la tua felicità per la mia felicità perché voi dovete sapere che io sono un golosone sono un assoluto goloso ovviamente non ha regole andiamo ok il vasetto vuoto ok pronto possiamo mescolare mescolare si bello è anche bello si mettiamo anche i cubini no scusate se non mi mette la cioccolata sto chef anche il gelato è che gelato ok che bello ora diciamo sarebbe pronto ma non è pronto ma non è pronto perché va congelato esatto però fai vedere un po sì allora io vi dico se non si sta attenti lo mangio anche così può capitare può capitare che bello allora mettiamo una vaschetta possibilmente di plastica con il coperchio in medio e lo mettiamo nel congelatore almeno per una notte per una notte chi la regge una notte comunque più lo tenete nel congelatore e più diventa gelato esatto angelo allora ecco facci vedere il gelato facciamo il gelato vieni vieni facci vedere qua vedi che abbastanza immorbido allora noi vi diciamo caro angelo ma ho messo un pochino va bene ma tanto io ho il trogolo dopo ci penso da me noi vi diciamo grazie mille anche per questa settimana www.comunicareproduzioni.it per scaricare le ricette di angelo madonna e anche come vedete per sorridere un po buon estate in famiglia con gli amici al mare in montagna dove siete siete bye bye ciao a tutti